Ciao da Avsim! Che cosa ha detto Paolo Di Bala al Guardian? Avete letto la sua intervista? Vi invito a farlo in inglese, se riuscite, altrimenti con una semplice traduzione. È molto lunga, come solo i giornali stranieri, soprattutto inglesi, sanno fare, mentre noi qui scriviamo tre righe, quattordici pubblicità e alla fine non abbiamo capito nulla. Ma è molto interessante, perché è praticamente un racconto di Paolo Di Bala a livello umano, a livello personale, per quelle che sono state anche le sue vicende familiari, sapete, molto tragiche. Perché ha perso il nonno quando aveva quattro anni, il padre quando ne aveva quindici, soprattutto il padre quando ne aveva quindici. Un padre che ha fatto tanti sacrifici per farlo giocare, lo portava a chilometri e chilometri di distanza da casa tutti i giorni per farlo allenare. Con Paolo che hai dovuto anche tornare indietro a Laguna Larga dopo aver iniziato ad allenarsi con l'Istituto di Cordoba, per poi tornarci, insomma, è andato avanti e indietro, ma non ha mai smesso di sognare di fare il calciatore, di diventare calciatore, come infatti gli è successo, come infatti è riuscito a fare, soprattutto con l'approdo a Palermo. Si parla di tutto questo nell'intervista, c'è Di Bala che si racconta, che racconta le sue vicende familiari mentre lui iniziava a giocare, la sua scelta, come è arrivata la proposta di andare al Palermo, in che modo l'ha accettata, per quali ragioni, come si è trovato il primo anno, come si è trovato il secondo anno e poi naturalmente l'approdo alla Juventus, con il racconto anche degli esordi, anche in nazionale, che butta lì via il fatto di condividere lo spogliatoio, di essere l'unico giocatore al mondo a condividere lo spogliatoio con Messi e Ronaldo, e in questo momento è anche l'unico nella storia a poterlo dire, cioè nel senso di farlo contemporaneamente con Messi e Cristiano Ronaldo, perché Iguain fondamentalmente in nazionale ormai non ci va più, o altrimenti ci sarebbe anche Iguain da quest'anno, quindi tante qualità di Paolo Di Bala che conosciamo bene, tanti aspetti umani che lo caratterizzano per essere veramente un giocatore diverso dagli altri, che secondo me trova nel suo vissuto familiare tantissima spinta per quella che è poi la sua qualità in campo, cioè un giocatore che tra l'altro, come ha detto, non riesce a stare lontano dal pallone, se sta troppo tempo senza toccare il pallone nel corso di una partita si perde, perde la traccia del gioco, non sa più bene cosa fare, questo potrebbe quasi essere l'ammissione di un difetto, e cioè senza palla non so muovermi, in realtà è un grande pregio perché è un giocatore che con il pallone sa fare tutto, il pallone lo trasforma in qualcosa di magico, ma questo lo sappiamo bene, lo ammiriamo per fortuna quotidianamente, grazie al fatto che Di Bala non ha lasciato la Juventus quest'estate, e nell'intervista c'è anche il racconto di quello che è successo quest'estate, ma ci sono anche delle dichiarazioni che vanno in prospettiva futura, cioè che parlano praticamente della sua eventuale permanenza, oppure no, alla Juventus. Di Bala ha lanciato praticamente un messaggio, questo voglio dire subito, non si tratta di parole preoccupanti, secondo me si tratta di un messaggio lanciato alla dirigenza per dare in qualche maniera lo stimolo a fare questo rinnovo. Rinnoviamo il contratto a Paolo Di Bala, Di Bala ha detto ho un contratto per altri due anni, però insomma non sono pochi ma non sono neanche tanti, ha detto esattamente così, tutto sta alla volontà della Juventus, che cosa deciderà la società di fare, se decideranno di mandarmi via nella prossima finestra di mercato, oppure se decideranno che devo restare. Di Bala non ha usato mezzi termini, ma perché poi tra l'altro è un ragazzo intelligente, cioè lo sa bene che nel momento in cui hai due anni ancora di contratto, e cioè nello specifico, cioè vai praticamente in scadenza alla fine, insomma la prossima sessione di mercato praticamente è l'ultima in cui puoi veramente essere ceduto in maniera remunerativa, quindi c'è questo, insomma nel momento in cui non viene rinnovato Di Bala, il rischio serio è che la Juventus possa decidere di cederlo la prossima estate. Di questo parla Di Bala, tra l'altro un'intervista rilasciata in questi giorni, quindi non possiamo pensare che siano pensieri da, diciamo, retrodatare ad un momento in cui non c'era un discorso rinnovo per Di Bala, mentre adesso è stato instaurato. Per il momento non si sa nulla del rinnovo di Di Bala. Si è vagamente parlato di un'ipotesi di rinnovo, di un lavoro per rinnovare il contratto a Di Bala, sono venute fuori delle cifre, 10 milioni, però non c'è nulla di concreto in questo momento, e anzi si è anche smesso di parlarne, per cui secondo me Di Bala ha provato a dare, diciamo, la sua spinta alla Juventus per sedersi finalmente al tavolo e chiudere questa trattativa per il rinnovo. Una giocata sporca, una giocata scorretta da parte di Di Bala, secondo voi questa di mettere pressione alla dirigenza? Onestamente secondo me no, perché le parole che ha usato sono state abbastanza delicate, sono state rispettose, anzi ha detto la decisione è la vostra, la decisione sarà della Juventus. Io qui sto bene, sto benissimo, mi sento a mio agio, e ha detto, anche ripeto, ha svelato un po' qualche retroscena di quest'estate. Ha detto è stato brutto, perché ogni momento poteva essere l'ultimo di restare qui, abbiamo aspettato fino all'ultimo secondo, sapevo che la società voleva vendermi, stava per mandarmi via, io però volevo restare, e tra l'altro sono venute fuori anche voci, secondo cui Di Bala aveva praticamente già salutato, aveva già preparato un video messaggio ai tifosi da pubblicare sui social, che poi per fortuna non ha mai visto la luce, e speriamo che non veda mai la luce neanche in futuro, perché ovviamente la mia speranza, per quello che stiamo vedendo da Di Bala quest'anno, è che resti, perché è un giocatore chiave, è un giocatore fondamentale, ha già segnato più dell'anno scorso, dieci gol tutta la stagione l'anno scorso, quest'anno ne ha già fatti undici, più gli assist, risulta veramente un giocatore che fa la differenza in campo, che mette la qualità dove non la mettono gli altri, ma dove serve, la qualità dove serve. Un giocatore che cambia il volto della Juventus, che cambia il volto delle partite, veramente un giocatore convincente, prestazione dopo prestazione, Paolo Di Bala, credo che siamo d'accordo su questo, quindi siamo grati al destino, se è il destino, e a Di Bala, se è Di Bala, per il fatto di essere rimasti, ma non alla Juventus, perché la Juventus si è trovata nelle condizioni di non poterlo più cedere, pur avendo deciso di farlo. E infatti Di Bala ha detto, che dobbiamo ringraziare anche Sarri, perché Sarri ha voluto che restasse. Sarri gli ha dato anche grande forza, ha detto, mi ha dato grande forza quando non sapevo cosa sarebbe successo, ha voluto che io restassi. Quindi Sarri, che più volte, anche in estate, ha detto, io nel mercato non entro, del mercato non mi interesso, che però ovviamente fa il suo lavoro da tecnico, e cioè, si interfaccia tra lo spogliatoio, e quindi i giocatori, e la dirigenza, e quindi, diciamo, gli aspetti legati al mercato, dicendo, io di questi giocatori ho bisogno, a me questo giocatore piace, a me questo giocatore serve, perché è normale, non puoi star lì a far finta di nulla, ti tolgono i giocatori da sotto il naso, e dici, va bene lo stesso, va bene essere aziendalissima fino a un certo punto, perché poi, bisogna anche sapere essere critici, bisogna anche, saper chiedere di più, per avere il meglio, e Sarri ha chiesto, ha preteso il meglio, quantomeno sulla cessione di Dybala, e anche di Higuain, poi, poteva essere acquistato chiunque, poteva essere ceduto chiunque altro, come è stato ceduto Cancelo, è stato preso Danilo, adesso De Sciglio, Kurzawa, insomma, questioni che poi, su cui non sapremo mai la verità fino in fondo, cioè, quali sono le valutazioni di Sarri e della dirigenza, ma, sappiamo che la dirigenza aveva deciso di cedere Dybala, e che Sarri, in qualche maniera, si è frapposto, Dybala ha rifiutato, nell'intervista si parla espressamente, di Tottenham e Manchester United, quindi è confermato, non erano solo indiscrezioni di mercato, ma è confermato dallo stesso Paolo Dybala, che sono state quelle le squadre a cercare Dybala, a cercarlo, sono state quelle le società che erano in procinto di acquistarlo, Tottenham e Manchester United, lui, come sappiamo, ha rifiutato, ma si è messo di mezzo anche Sarri, che lo voleva, che lo voleva tenere, e, ancora, sul discorso del contratto, ha detto, era sul punto di partire, la volontà del club era quella, lo sapevo, ogni momento poteva essere l'ultimo, e quindi ha descritto quei giorni, come dei momenti sicuramente molto tristi, ma lo abbiamo visto, ricordate il bellissimo gol alla Triestina, con esultanza triste, esultanza triste di Dybala, ma simbolica, perché ancora non era detta l'ultima parola, poteva ancora andare via, e comunque era stato praticamente messo sul mercato, e poi invece la gioia vera, di Dybala, dopo la chiusura del mercato, di ritrovarsi, nel posto dove ama stare, e fare le grandi cose che sta facendo, insomma, è un giocatore che è un professionista, ma un giocatore che ha anche un grandissimo lato umano, che a noi sicuramente piace, ma che poi è anche molto efficace, molto utile, perché grazie a questo lato umano, Dybala riesce secondo me a dare di più in campo, è quel 5% di cui ha parlato Sarri di recente, che ti porta, quel 5% di divertimento, che ti porta al 100% di rendimento, rispetto al 95% di massimo, che riesci a dare quando non ti diverti, e sul divertimento, proprio Dybala ha sposato le idee di Sarri, e le ha esaltate, dicendo, nella fase difensiva, dobbiamo essere meccanizzati, e abbiamo un millesimo di secondo per pensare, ma abbiamo già fatto tutto in allenamento, cioè andiamo a ripetere, cose fatte in allenamento, eh, che bello, quando le squadre vengono allenate, quando i giocatori vengono allenati, quando c'è una preparazione vera, tattica in allenamento, eseguita in modo tale che entri nella testa, dei giocatori senza troppa improvvisazione, e ha detto anche, giochiamo con facilità, appunto su quello che abbiamo preparato in allenamento, si tocca tanto il pallone, quindi a me piace tanto toccare tanto il pallone, quindi mi trovo in un contesto tecnico tattico in questo momento, che è congeniale a me, perché posso toccare il pallone tutte le volte, anzi devo farlo, perché è una squadra che fa tanto possesso, che fa tanto palleggio, ma sul discorso, dicevo, del rinnovo, ecco, è il cuore dell'attualità di questa intervista di Dybala, a parte, ripeto, l'excursus, la storia della sua vita, andatela a leggere, non fermatevi soltanto ai report italiani, alle traduzioni striminzite italiane, dove ci sono solo pillole di qualcosa che è molto più ampio, più significativo, veramente vi raccomando di leggere l'intervista integrale, ve la metto anzi in descrizione, così potete recuperarla con facilità, sul Guardian in inglese, perdetevi un po' di tempo, perché è un po' lunga, ma vale veramente la pena per conoscere meglio Dybala poi, d'altra parte, che non è una cosa che ci capita tutti i giorni, perché lo vediamo giocare, ma non sappiamo tantissimo poi, questo vale per tutti i giocatori, ma la cosa, dicevo, cruciale riguarda il discorso del rinnovo, che, secondo me, ribadisco, è un messaggio alla società, delicato, corretto, rispettoso, ma opportuno, per dire, lo facciamo o non lo facciamo, questo rinnovo, perché sarebbe il momento, io mi sono messo a disposizione, sono rimasto perché volevo restare, l'allenatore voleva che restassi, i tifosi volevano che io restassi, in grande parte, e quindi, perché dobbiamo tenere la situazione in bilico, non è neanche, secondo me, una questione economica, che comunque, pure merita, cioè, chi di noi pensa che Dybala, non meriti un aumento, da 7 a 10 milioni, lo so che parliamo di cifre spropositate, e noi questi soldi non li vedremo mai, ma il calcio è questo, lo sappiamo, non c'è adesso da scandalizzarsi, secondo me Dybala, per l'abnegazione, per il legame con l'ambiente, con la società, per il lavoro che sta facendo, per il rendimento che sta offrendo, secondo me, con una continuità veramente superiore, a qualsiasi altro calciatore in rosa, sicuramente, compreso Cristiano Ronaldo, che ha avuto dei picchi, ha avuto dei cali, sicuramente, in questa stagione, beh, un ritocco dello stipendio, lo merita, ma soprattutto, un prolungamento, che possa portare Dybala ad essere confermato, come vice capitano, ma capitano del futuro, come simbolo di questa squadra, come numero 10, come giocatore chiave, come giocatore fondamentale, anche quando fa panchina, perché comunque, non può giocare sempre, nessuno può giocare sempre, perché comunque abbiamo, tante opzioni in attacco, tra tridente, non tridente, Douglas Costa, senza, Higuain, veramente, ci sono tante opzioni, però, insomma, il rinnovo a questo punto diventa, secondo me, qualcosa di veramente opportuno, speriamo che arrivi presto a questo punto, speriamo che Paratici, la dirigenza, e chiunque, debba occuparsi del rinnovo di Dybala, lo faccia, molto rapidamente, perché la volontà è questa, deve essere questa, e così evitiamo di tornare a fare, discorsi insopportabili, appunto, su un'eventuale cessione, di Paurino, vi ho detto tutto quello che pensavo, su questa intervista molto bella, di Dybala al Guardian, vi ringrazio per l'attenzione, e per i commenti che scriverete qui sotto, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!